siamo arrivati a fine settimana venerdì abbiamo visto ieri la challenge proposta da alessandra responsabile tecnico di meda oggi cambiamo sede continuiamo il nostro giro e c'è una new entry claudio che è un trainer che lavora in piazzetta bossi e in via gargano oggi claudio ci fa vedere cinque modi diversi per fare il crunch quindi lascio spazio a lui peraltro una cosa importante da dirti sono in ordine difficoltà dal più semplice al più difficile quindi se vuoi cimentarti un esercizio complicato parti dall'ultimo lascio spazio a claudio che ti fa vedere i cinque esercizi buon allenamento ciao 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 ciao